Ciao, sono Manon e sono uno dei soci fondatori di Alcanoids e siamo con Luca Comics perché abbiamo portato la prima mostra di realtà aumentata. Noi siamo uno studio di motion design e abbiamo portato avanti questo progetto personale per un anno, cioè abbiamo contattato 16 illustratori, in particolare il nostro director a Utah ha contattato 16 illustratori e ha dato un tema che era quello del futuro e un'unica color palette. In base a questo poi noi abbiamo animato, perché è il nostro studio, lo studia l'animazione, tutte le tavole che sono state sonorizzate, in questo caso da un unico sound designer che ha portato a passare. Una volta che le abbiamo animate abbiamo detto come facciamo vivere l'esperienza agli spettatori, a chi viene a vedere la mostra, di vedere queste animazioni. Allora abbiamo con Patika, siamo riusciti a sviluppare questa applicazione in realtà aumentata, la mostra si chiama Anchevica, l'applicazione Anchevica Gallery, che permette semplicemente inquadrando le illustrazioni di vivere un'esperienza assolutamente unica di mix e reali, quindi inquadrando le illustrazioni si gode dell'animazione che è perfettamente traccata all'interno del quadro ed è un'esperienza veramente svalormentiva. Anche noi ogni volta che la vediamo siamo molto soddisfatti di questa cosa, nonostante sia ormai un anno che la portiamo avanti. Complimenti, avete pensato a qualche applicazione a livello di imprese, di aziende? Stiamo facendo un crowdfunding per migliorare l'applicazione, ci sarà una nuova mostra a breve con un nuovo tema con altre 16 illustrazioni e stiamo sviluppando l'applicazione proprio in questa direzione per poterla aprire ad altri utilizzi anche commerciali. Bene, allora complimenti e alla prossima. Grazie.